Ciao a tutti, eccoci qui, questo è DopoGP per commentare la quinta prova di stagione Gran Premio di Francia Le Mans con gli ospiti di sempre, a mio fianco Giovanni Zamani, ciao Gio Ciao Nico, ciao a tutti Rientrato dalla fredda Francia del Nord e di fronte a noi Linge, Giulio Bernadelle Ciao Nico, ciao a tutti Ciao Giulio, in Motion Group, allora una gara dominata dalla Yamaha seguita dalla Ducati e con il naufragio Honda C'è tanto da dire, tanto sul piano tecnico e anche umano e noi come il solito partiamo dalle vostre domande Una sintesi perché ce ne sono tantissime e la prima è per Linge Stefano Bertuccioli su Rossi, sappiamo che Rossi è faticato molto in prova e poi ne parleremo tanto Come è possibile che un pilota che prende un secondo per tutto il weekend per Magia recupera tutto e sta davanti Sono stufo di miracoli, qui c'è la tesi che Valentino è sempre agevolato Esatto, ma non ci sono miracoli, è un approccio diverso dagli altri piloti, dai piloti più giovani alle prove E un metodo di lavoro che mira cercare la messa a punto per la gara in particolare E probabilmente anche una differenza di prestazione sul giro secco che Valentino ammette rispetto ai piloti più giovani E dopo sentiremo, Giovanni, ci sono tante voci su questo tema, tu hai sentito Galbusera Sì, c'è anche Galbusera che spiega il miracolo, come lo chiama il nostro lettore, non è un miracolo come ha detto l'ingegnere E Galbusera lo spiega Esatto, e quindi state qui perché ci sono spiegazioni per tutti i misteri di Le Mans Ecco, una domanda per te Joe, Manu46 dice La Honda è peggiorata così tanto? Perché se è diventata una moto disastrosa, a Marche non ci può fare nulla Se invece è ancora a livello degli altri, allora Marquez non è il super pilota che si credeva È stato sopravvalutato? No, 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 secondo me Marquez non è stato sopravvalutato Almeno io personalmente sono uno di quelli che crede che Marquez sia un fenomeno E probabilmente in questi anni, questa è la mia tesi, lui ha mascherato i problemi della Honda Che erano più grandi di quanto anch'io credessi Questa è la mia tesi E dopo anche questo verrà approfondito Andrea Zaccardi chiede all'Inge La Ducati sta facendo molto bene ma se vogliono puntare alla vittoria E il mondiale se lo potrebbero ancora giocare Devono fare uno step aggiuntivo Sapete se hanno intenzione di introdurre qualcosa a breve? La Ducati ha per regolamento la possibilità di continuare a fare il sviluppo della moto A differenza delle factory pure insieme alla Suzuki E quindi sicuramente penso che Dato che il Mugello è la loro pista test Al Mugello ci sarà qualche novità Probabilmente soprattutto a livello motoristico E infine Power Slide ma anche Le Mans 176 sono i due che chiedono Non credete che il problema della Honda sta nell'aver affidato lo sviluppo della moto a gente Come Mark e come Stoner Che guida sopra i problemi? Yamaha hanno dei perfezionisti Penso che la differenza quest'anno la faccia soprattutto la mancanza di Pedrosa Come abbiamo già avuto modo di dire Pedrosa è il pilota che si è fatto carico di indirizzare lo sviluppo della moto Fin dalla prima versione 800 del 2007 E il fatto che lui non ci sia Rende complicato più del previsto il lavoro per Markes Che non ha tutta l'esperienza che ha Pedrosa per dare indirizzi ai tecnici Questa in sintesi le prime risposte Ma a questo punto andiamo sui temi del Gran Premio E naturalmente il primo tema Lorenzo Lorenzo che dopo la vittoria di Jerez ha macinato un'altra gara perfetta Giovanni Sorprendente dal punto di vista umano Questo recupero del pilota Che sembra davvero tornato al livello dei migliori tempi Del 2010 addirittura Dici tu sul sito Quando fece scappare la voglia Valentino Ecco, che effetto ti ha fatto? Beh, è un effetto di un Lorenzo Veramente in grandissima forma E questo mi riallaccia un po' al discorso anche della domanda del lettore di prima Non ci sono miracoli Lorenzo nelle prime tre gare sembrava in crisi E nelle ultime due gare è stato imbattibile È stato in testa dalla prima all'ultima curva per due gare consecutive Che nella MotoGP di oggi è qualcosa di eccezionale Non è che ha fatto un miracolo tecnico Tu l'hai proprio chiesto L'hai proprio chiesto come mai Cosa ha fatto? Esatto, voglio dire, è questione La MotoGP è talmente Ormai ho imparato E stiamo vedendo Che è talmente equilibrata I valori sono talmente vicini Di moto e piloti Che veramente bastano Dei dettagli per fare una grande differenza E Lorenzo in queste due gare l'ha fatto Ha fatto questa grande differenza Arriva anche con una determinazione A mio modo di vedere differente Già dal giovedì lo vedi Con una carica differente rispetto alle prime tre gare E comunque anche alle mani è stato straordinario Perché lui è stato esagerato in partenza E partito benissimo Ha passato dovizioso subito perché voleva passare Ha impresso il suo ritmo Ha resistito agli attacchi di Valentino E insomma tranne all'ultimo giro Che ha fatto 34 e 100 Perché ha salutato il pubblico Già all'ultima curva Se no faceva un altro 33 e alto Insomma è stato impressionante Davvero un Lorenzo in grandissima forma In questo momento sicuramente il più in forma del campionato Questo è l'uomo Questo è il pilota E poi c'è la tecnica Prima di affrontarla con Linge Guardiamo la classifica della gara Perché è un dato comunque importante Allora vittoria di Lorenzo Di misura su Valentino Che solo sul finale ha ceduto un po' 3 secondi e 8 Ma il margine ha oscillato tra l'1.8 e il 2.5 Durante la gara Anche Dovizioso poi ha mollato Chiudendo a 12.380 Ma era molto più vicino a Rossi Di quanto dica la classifica Marquez che in extremis è riuscito A passare Iannone Dopo un duello che ha acceso Veramente l'entusiasmo degli spettatori Era un bel po' che non si vedeva Una gara così bella Nelle retrovie Retrovie Parlare di retrovie con Marquez è clamoroso Seguono Bradley Smith Bravo Con la seconda Yamaha del Tech 3 Di Polo e Spargaro Settivo posto Poi Hernandez Davanti a Vignales Petrucci Decimo E via gli altri Allora Giulio Questa è Yamaha Yamaha che va così bene in gara E un pochino più in difficoltà In prova Ecco che differenza c'è Fra una moto fatta per fare il tempo sul giro E quella fatta per essere veloce Sull'intero arc di gara Perché non può essere una moto sola Giusto? Una moto sola non può fare tutto Esatto Ma diciamo che quello che cambia E che deve essere valutato Per poter capire questa cosa qui È il bilanciamento Cioè durante il passare dei giri Cambia la performance delle gomme In particolare cala molto di più Della gomma davanti e la gomma dietro Quindi si sbilancia a livello di grip la moto E poi cala la distribuzione di peso Anche se queste MotoGP Fin da quando sono state introdotte Hanno diciamo un posizionamento della benzina Abbastanza centrato Cioè vicino a quello che è il centro di gravità Poi della moto Però cambia anche da questo punto di vista qua In particolare si abbassa il centro di gravità E quindi la moto ha una minore tendenza A trasferire il carico in accelerazione in frenata Tutto questo fa sì che la prestazione Possa essere ottimizzata per andare bene All'inizio della gara Quindi con gomme nuove E serbatoio praticamente pieno Oppure possa essere ottimizzata Per andare bene verso la fine della gara Con gomme finite e serbatoio vuoto Oppure si può cercare un compromesso Diciamo che la Yamaha E' quella che secondo me ha fatto La scelta migliore Nel senso che è riuscita a fare una moto Che con gomme nuove E' una moto che scarica molto grip Questo lo dicevamo anche l'anno scorso Quindi è un grip meccanico Un grip meccanico molto elevato Quindi è una moto che con gomme nuove Tende ad essere sotto sterzante Cioè tende a chiudere con difficoltà le curve Tutte le moto sportive hanno bisogno Di avere un minimo di effetto sovrasterzante Per poter essere efficaci sul giro E quindi è una moto che all'inizio Con gomme dotate di molto grip E in particolare con la gomma posteriore Che tiene molto Tende a spingere in curva Dicono i piloti Cioè fa fatica a chiudere la curva E quindi è difficile tirar fuori il tempo sul giro Quando devi obbligatoriamente usare una gomma La più tenera che hai a disposizione E la devi usare nuova per poter sfruttare al massimo la prestazione Mentre poi le cose durante l'arco della gara si sistemano E la moto diventa leggermente sovrasterzante E diventa più gradevole Più facile da essere controllata Più adeguata a tirar fuori la prestazione Verso la seconda parte o la parte finale di gara Questa è una scelta tecnica È proprio una caratteristica voluta Ma sono piccole sfumature o sono scelte tecniche precise Nel senso che poi alla fine Lorenzo Questa volta per esempio è partito forte Va bene Guidando alla Lorenzo Cioè con una precisione matematica assoluta Un rasoio Quindi forse solo così puoi andare così forte I primi giri con la Yamaha Sì perché devi assolutamente essere preciso Nel senso che devi sfruttare questo enorme tasso di grip Che la moto ha di per sé Questo è un valore elevatissimo del grip meccanico Che la moto ha Guidare sporco non paga con la Yamaha Proprio perché il grip è talmente molto elevato Che per far derappare alla moto Sporcheresti la guida E la renderesti nervosa Senza poterla poi controllare in maniera efficace Ecco dicevo che è una scelta tecnica È una scelta su cui i piloti poi possono giocare Con le regolazioni che hanno a disposizione Assieme al team Durante i turni di prova Però di base la moto mantiene questa caratteristica Qui proprio per come è stata impostata La Yamaha è una moto con un quattro cilindri in linea Con una parte posteriore La sospensione posteriore E la geometria del forcellone Fatta apposta per dare molto grip E quindi questa caratteristica qua Se la porta era sempre dietro E noi vedremo sempre Una Honda leggermente più scomposta E una Yamaha molto più stabile Come abbiamo visto fin dallo scorso anno Perfetto Noi avevamo chiesto a voi lettori Se Lorenzo dopo il successo di Cherez Tornava in lizza per il mondiale Avete risposto sì Per il 57,06% No soltanto per il 32% Percettuali che chiaramente cresceranno In favore di un Lorenzo Dato tra i favoriti del mondiale Visto la grandiosa gara E a questo punto però parliamo anche di Rossi Perché i due piloti hanno avuto Sì, separati in gara da pochissimo Ma in realtà separati da tantissimo Per tutte le giornate delle prove Fin dal venerdì in difficoltà a Valentino Allora andiamo ad approfondire questo argomento Cominciando da Tu hai fatto una domanda precisa a Valentino Qual è stato? Un po' provocatoria Ma sì perché Valentino ha sottolineato La grandezza della squadra A fine gara L'ha detto più volte L'ha detto in televisione in diretta L'ha ripetuta noi Allora un po' sai come si fa con gli allenatori di calcio Quando fanno i cambi Si dicono ma ha sbagliato la formazione iniziale O ha azzeccato i cambi Quando vincono poi le partite Grazie a chi entra E un po' il dubbio viene Cioè è una grande squadra Oppure una squadra che non è capace di arrivare prima Allora insomma l'ho chiesto sia a Valentino che a Galbusera Allora sentiamo Prima Valentino Direi di no Forse più Cioè più che pessima squadra Più pessimo pilota Perché ci ho messo troppo a capire qual era la via da seguire Ecco Però dai l'importante è che ci siamo arrivati C'è un motivo nel senso che Prendiamo molto in riferimento l'anno scorso I dati dell'anno scorso Perché comunque abbiamo esperienza insieme con la stessa moto Ma la moto di quest'anno è molto differente E quindi non è la via giusta prendere i dati dell'anno scorso Insomma Valentino si è ricavato bene con una battuta Negando comunque che la squadra abbia dei problemi Allora tu hai fatto ricostruire a Silvano Galbusera Suo responsabile tecnico un po' il percorso di questo Gran Premio Esatto sì Ci ho provato Sentiamo Vediamo Sentiamo Silvano Galbusera Spiegaci questo ennesimo miracolo tecnico Che da fuori non ha una spiegazione Da dentro sì No vabbè abbiamo seguito delle strade Sia il venerdì e il sabato Basandoci un po' sui dati dell'anno scorso Ma alla fine ci hanno portato un po' fuori strada Poi abbiamo perso il quarto turno di prove libere Dovevamo provare un setup del warm up Per cui ci ha ritardato tutti di uno step Nel warm up Con il nuovo setup Non era il top Abbiamo fatto un'altra Mossa Non rischiosa Ma basata sulla nostra esperienza Che ha dato Un buon frutto Senti Silvano io ho fatto una provocazione a Valentino Lui ha parlato di grandissima squadra E io ho detto Ma non si può dire pessima squadra Perché ci mette Ovviamente ci mette tre giorni ad arrivare a messa a punto Ovviamente una provocazione Lui ha detto La colpa è mia che non ho dato le indicazioni giuste No io dico che hai ragione tu Nel senso che è una pessima squadra Più che altro chi dirige la squadra Che non è ancora entrata nella mentalità Hai capito la provocazione No certo sì Ma è vero Cioè purtroppo Il livello è talmente alto Che con piccole modifiche Si ottiene O un buon risultato Oppure mediocre E un Valentino mediocre Non dà quello che dà Quando invece sente la moto Che vorrebbe Riesce a esprimersi al massimo Purtroppo ancora per Fino ad ora Non riusciamo a trovare Quella messa a punto Almeno per il sabato Beh molto molto interessante Poi voglio che tu commenti Giulio Le parole di Silvano Che poi è una persona particolarmente Sincere e modesta Ed è stato così gradevole Da volere entrare nel nostro sito Per rispondere a qualche lettore Che troppo insistentemente Andava ancora a dire Miracoli Qui vogliono far vincere i valentini In tutti i modi E lui con uno spirito Veramente sportivo E parole molto misurate Ha voluto entrare in questo argomento Dicendo Non ci sono Non ci saranno mai forzature Su chi deve vincere il campionato Anche se la fantasia Porta a conclusioni poco logiche Lui dice La discussione va fatta In base ai risultati in gara Valentino ha uno stile Completamente diverso Da Jorge Non può prendere i suoi settaggi Del resto a Vale Non serve alcuna difesa Suo talento parla da solo Spero di averti tolto qualche dubbio Lo fa con amichevolezza Lo fa con Garbo E' sempre un grande Silvano Beh devo dire che Io non lo conoscevo Personalmente Silvano Galbusera Se non quelle poche volte Che ero stato nel pad Quello superbike L'ho conosciuto Da quando è arrivato Nella MotoGP Ed è assolutamente Una persona Piacevolissima Splendida E molto modesta E poi Un appassionato di tecnica Qualsiasi chiacchiere La tecnica La fa sempre volentieri Insomma Il fatto anche Che sia intervenuto In questa maniera Sul sito Oltre al fatto Che mi fa piacere Perché vuol dire Che ci segue Però insomma Fa piacere Perché Devo dire Che tutti quelli Che lavorano Con Valentino Ma non solo Quelli che lavorano Nell'ambiente Sono un po' stufi Obiettivamente Di sentire dire Che Valentino vince Io la sento dire Questa roba Dal 97 Cioè da quando ha vinto Il primo mondiale Nella 125 Lì allora L'aprile Gli dava le moto Buone solo a lui Poi lo stesso In 250 Poi c'era In 500 Aveva la Honda Poi dopo Con la Yamaha Aveva l'amice Che gli faceva le gomme Dopo c'è stato Il monogoma Ma non va bene Uguale Insomma basta Diciamo che questo È un fenomeno Che ha vinto 110 gare Quante ne ha vinte Ha fatto 201 podio E basta Vente 9 mondiali E basta Ed è più forte Ed è più forte Nell'arco Di 20 anni ormai E aggiungiamo Insomma che i miti Danno sempre un po' fastidio D'altra parte I grandi dello sport Durano come è stato Agostini Lo sta facendo Valentino Va beh insomma Non abbiamo più bisogno Di insistere su questo argomento Noi ci guardiamo La classifica Del mondiale Perché comunque Valentino È là davanti Con due vittorie E un secondo E due terzi posti E quello là Quota 102 Adesso è Lorenzo Al suo inseguimento Staccato di 15 punti Ha superato Dovizioso Che è a quota 83 E quindi a 19 punti Poi Marquez A 69 E a 61 Ancora Certamente Tutti i giochi Sono aperti Giulio Abbiamo parlato di Yamaha Hai raccontato molto bene Perché la moto Rende bene in gara E non in prova Invece voglio sentire Cosa pensi tu Di questo miracolo Che non è più miracolo Di Valentino Galbusera Ce l'ha raccontato bene La differenza soprattutto Fra i due stili di guida E la corporatura Esatto Ma diciamo La cosa si può spiegare Anche Un po' Entrando nel dettaglio E con abbastanza Sicurezza Diciamo I due stili di guida Sono completamente diversi Quindi è abbastanza Difficile pensare Che Al di là Della Della messa a punto Di base Cioè quella che c'è All'inizio dell'anno Poi le due moto Sono lontane Come setup Tra Valentino E Lorenzo Proprio perché Valentino guida Molto di più Sull'anteriore Lorenzo invece Ha una guida Più rotonda Anche se poi Entrambi hanno Una guida Abbastanza rotonda Abbastanza rotonda E antica Rispetto a quello Che si vede Soprattutto da Marquez Che si era già visto Con Stoner E anche con Pedrosa Dal punto di vista Invece di come È evoluta la moto Nel corso dell'inverno Tra il 2014 E il 2015 Bisogna dire Che l'anno scorso Intanto era il primo anno Per la squadra Di Galbusera Quindi Galbusera Aveva bisogno Di partire Con Diciamo Dei riferimenti Che non aveva Quindi la difficoltà Poi Del trovare La messa a punto ideale Era dovuta da questo Però l'anno scorso Per tutta la stagione Probabilmente Trovando poi Una soluzione Buona Solo nel finale Lavoravano costantemente Perché Valentino Chiedeva di avere Fiducia Proprio Sull'avantreno Soprattutto nella fase Di staccata Di ingresso in curva Era lì Diciamo Il punto debole Dello scorso anno Questa cosa invece Quest'anno È stata Abbastanza Ben sistemata Valentino L'abbiamo detto Riesce a guidare Con le scelte Più dure di gomme In maniera molto efficace Di gomme anteriori E quindi Fare il lavoro Probabilmente Che veniva fatto Lo scorso anno All'interno del box Durante i turni di prova Assolutamente Non paga Quest'anno Le richieste sono diverse E probabilmente In questo senso Il metodo Con cui viene approcciato Il turno di prova E magari anche Il fatto di partire Con il setting Dello scorso anno Non ha molto senso E probabilmente Non verrà più Neanche seguita Come strada Dal GP del Mugeli Si cambierà Tu dici Oltretutto Aleman Beh Ha avuto Un problema particolare Devuto al meteo Perché poi Un turno di prova Quello della verifica Nel GP 4 È saltato Quindi Si è spostato Tutto di un turno Perché di solito Valentino Ci arriva il warm up E questa volta Ci è arrivata la gara Proprio perché È stato perso Un turno Si poi bisogna dire Che questo vale Un po' per Per tutti i piloti Ma a mano Che passano gli anni Il pilota diventa Sempre più Un perfezionista E quindi Per andare Veramente forte Richiede di avere Quel corredo Di sensazioni Tutte a posto Che lui Deve sentire E si impone Di sentire Per poter Fare il tempo Sul giro Rischiare Ecco quindi Probabilmente Da questo punto di vista Qua Valentino Rispetto a piloti Che hanno dieci anni E più Di giovinezza In più di lui Si è più esigente E quindi Guida un po' più Con dal margine Durante i turni di prova Come è giusto che sia Lui punta la classifica Punta il mondiale E punta il fermeringale Eh si Anche questa è una considerazione Importante Perché peraltro È sempre stato così Perché anche Non è mai stato uno specialista Non è mai stato uno specialista Nel 500 Quando vinceva 11-12 gare Però non faceva Non era il capirex No no Assolutamente Del giro a vita persa Cosiddetto Non lo ha mai fatto Però è vero Che con l'età Si ti vuole tenere anche Del margine Cercare di capire Se no farsi male È un attimo Bene Ducati Ducati Qui voglio coinvolgere subito Giovanni Perché abbiamo visto Due Ducati in pista Soprattutto quelle due là Con Dovizioso Capace di partire bene Molto bene E poi stare a lungo Insieme a Valentino E con Iannone Malconcio Ma capace di dar vita A un duello con Marquez Veramente meraviglioso Però tu Giovanni Traspariva dai tuoi servizi E anche dai pronostici Di persone che intervistavi Che ci si attendeva moltissimo Qui a Leman Dalla Ducati La vittoria sembrava nell'aria Sì Devo dire che Le prove hanno un po' Illuso Anche se poi Se si andava ad analizzare bene Le FP3 Che poi purtroppo Per causa meteo Sono state le uniche Che hanno dato qualcosa di interessante Dovizioso Non aveva girato Troppo forte Però Il venerdì Lui era stato L'unico in grado Di tenere il passo Di Lorenzo Di Lorenzo E di fatto È successo così Anche nei primi giri Fino al Il quinto giro È stato l'unico A girare In 33 1 33 2 Quindi evidentemente Come poi ha sottolineato Dovizioso In prova Puoi fare tutto quello che vuoi Ma certi ritmi Non li riesci a fare Non li puoi fare Non li puoi prevedere E quindi evidentemente Ancora gli manca qualcosa Come lui ripete spesso Però i primi giri Sono stati significativi Della velocità E della competitività Della Ducati Devono lavorare Ancora un po' Sulla costanza Hanno più problemi Degli altri Con la gomma posteriore Che in questo caso Era esattamente uguale A quelle delle factory Quindi Non avevano Una penalizzazione Diciamo regolamentare E però evidentemente Ancora La consumano Più degli altri E lui dopo Ha faticato di più Però insomma È una Ducati Che comunque Ha fatto 4 pod In 5 gradi Secondo me Questo è un dato Molto significativo E Iannone È sempre lì Poi Magari ha avuto Qualche problema in più Per l'infortunio Eccetera Però insomma Mi sembra una Ducati Bella Ah no Bellissima Infatti qui Qualcuno ci accusa Tra i lettori Di stare Un po' troppo Dalla parte della Ducati Ma l'entusiasmo È più che giustificato Dal fatto che La casa italiana Può puntare in alto È lì davanti Quindi È la cosa interessantissima Ecco Secondo il tuo occhio Attento Giulio Cosa manca Alla Ducati In questo momento La si vede Una moto molto precisa Che gira forte C'erano dei punti Era più stretta Girava strettissimo Molto più stretto Da regamare Cioè c'era proprio Un abisso Sulla traiettoria di postazione La facilità con cui Scendeva in piega Andava a prendere la corda E andava a prendere la corda Era un attimo Cosa manca Secondo il tuo occhio Esperto Intanto bisogna Ricordare Che i tempi Sul giro Ma soprattutto I tempi Totali di gara Continuano a calare In maniera Assolutamente significativa E anche qui a Le Mans Mi sembra che il tempo di Lorenzo Sia circa 20 secondi Forse inferiore Rispetto alla vittoria Dello scorso anno Sappiamo che sono confronti Sì Sono confronti difficili Perché cambiano le condizioni Dell'asfalto Del meteo Però Diciamo che la Ducati Mediamente ha dovuto fare Il passo per recuperare Lo svantaggio che aveva Lo scorso anno E poi guadagnare ancora Perché quest'anno Si presenta assolutamente Con i primi Sempre in posizioni da podio Come abbiamo detto Quindi va dato merito Assolutamente Del lavoro E va dato merito Alla GP15 E essere stata Assolutamente centrata Ecco Manca In questo momento Come abbiamo detto prima Manca questa capacità Di gestire Questa differenza Nel bilanciamento Che avviene Durante l'arco della gara E quindi Come lo è Quest'anno per la Honda Anche la Ducati Diventa un pelino Meno efficace Verso la fine della gara Nella seconda parte Direi della gara Ecco Quando cala il grip Della gomma posteriore In questo Bisogna anche considerare Che probabilmente Questa qui Era una delle piste Più Favorevoli a Ducati Anche perché Essendo una pista Dove si corre con il fresco Non era necessario Così come è stato in gara Utilizzare la scelta Più dura Per le factory E il Mugello Sarà probabilmente Diversa Da questo punto di vista Qui Quindi la vedi più penalizzata Il Mugello Vedo assolutamente Più favorite Le factory In gara Peccato Se il clima Poi sarà quello Quello caldo Che ci si aspetta Beh sì Perché la mia domanda Per te Giovanni Era un po' questa Al Mugello Hanno girato tanto Hanno girato forte Purtroppo Comunque insomma Hanno confermato Che hanno girato forte Come sempre Il Dove rimane Con i piedi per terra Lui dice Ha detto questa frase Non credo alle favole Se abbiamo avuto Un problema Le man Non è che Miracolosamente Lo risolviamo Al Mugello Perché ci vuole Tempo Però insomma Io mi aspetto Mi aspetto Che vadano forti Poi questo motore Che diceva l'ingegnere Ovviamente il Mugello È uno del piste Dove il motore Può fare più la differenza Perché L'accelerazione Sul retilino Del Mugello È importante Cioè lì Il decimo due Te lo puoi permettere Di guadagnare Anche solo lì Ecco quindi Quindi la speranza c'è Anche perché Arriveranno perfettamente a posto Potranno partire subito Sì Solo sui dettagli Come dicono Si è visto anche Nel corpo a corpo Tra Marche Segnone A Le Man Che a livello motoristico E soprattutto A livello di accelerazione La Ducati In questo momento qui È la moto numero uno Sì Anche lì Ha sorpreso Si dice che sta Honda Abbiamo Adesso ne parleremo Ma di un motore Troppo potente Ma la Ducati In accelerazione Lo prendeva subito Sì sì Infatti era impressionante La ripresa dalle telecamere Come si vedeva Quanto Quanto gli guadagnasse In accelerazione Devo dire che Devo viziosa Domanda precisa Avrete un motore speciale Chissà Con un sorrisino Io riporto Quello che ha detto lui Non so se ce l'ha Ma questo è quello che ha detto lui Però così Detto così Mi sembra un sì E allora Allora dai Andiamo a parlare di Honda Perché è un altro argomento E forse il più importante Perché vedere Marquez Così indietro E così in difficoltà E si fa fatica A credere Che è lo stesso Marquez Che ha vinto Dieci gare su dieci Allora inizio della stagione Allora inizio della stagione 2014 Allora intanto parto con Il vostro sondaggio Perché era dato Rossi il favorito A 40,66% Per la vittoria Le Mans E quindi c'era affetto Oltre che la stima E poi Marquez al 33% Lorenzo era soltanto Al 13,40% Però in fondo Insomma C'è questo problema Marquez Allora parto Da Giovanni Che a Le Mans Oltre a prendere freddo Ha chiacchierato Con tanta gente E sull'argomento Marquez Hai discusso anche con Suppo Perché tu L'hai anticipato in apertura Hai una tua teoria Affascinante Ingegnere Ho una mia teoria Basata Su quello che sta succedendo adesso Ma andando a rivedere Anche un po' La storia di Marquez Dell'anno scorso Ma anche degli anni passati A me è venuto il dubbio Che Marquez Stia facendo Quello che fece Stoner I suoi tempi Con la Ducati Cioè Che lui ha ottenuto Risultati Molto superiori Superiori Insomma Alle Alla reale Potenzialità Della moto È chiaro che è una provocazione Perché quella Ducati Veramente la guidava Soltanto Stoner Mentre con la Honda Insomma Ha vinto Pedrosa L'anno scorso Anche un solo gran premio Craccio va forte Però Insomma Se guardiamo i risultati Allora Aleman Dei quattro piloti Honda Tre sono caduti in gara Per la chiusura Dell'anteriore Poi Pedrosa ha finito Ma sono caduti Tutti e tre Marquez Ha fatto una grandissima fatica L'anno scorso Lui ha vinto Dieci gare consecutive Ma è vero Le ha vinte lui Poi l'undicesima L'ha vinta Pedrosa Ma Pedrosa Ha vinto una sola gara E dopo È arrivato Indietrissima Nel campionato Insomma L'anno scorso Bautista E Non mi ricordo Che E brother Facevano una gran fatica Con le Honda Factory Insomma Secondo me Ci sono tanti elementi Che mi fanno Pensare Adesso Che la Honda Non sia così buona Poi dopo Se vuoi Vado avanti Sulla mia tesi Marquez Intanto Cominciamo a sentire Supo Perché tu hai rivolto Supo Una domanda Secondo te È come È come Stoner Nel 2007 Una provocazione Ovviamente Visto che Supo Rivestiva lo stesso In carico Allora con Stoner E oggi con Marquez Sentiamolo Livio Supo Se si può parlare Di crisi Oggi sicuramente È stata una giornata Storta Però se guardiamo Le prime cinque gare Del campionato Io direi che Continuiamo a essere Competitivi In fondo Marquez è stato Molto veloce Dappertutto Carrezza ha fatto Comunque una ottima gara Nonostante avesse Un dito che gli faceva male Le altre gare Sappiamo come sono andate Però comunque Lui aveva il potenziale Per vincere Di più di una Di quella che ha vinto Quindi sicuramente Oggi è stata una giornata Storta Però prima di parlare Di crisi Aspetterei ancora un attimo Adesso faccio la provocazione Marquez nel 2014 Ha fatto come Stoner Nel 2007 Ha coperto I problemi Della Ducati Allora E della Honda Adesso Allora All'altro anno Ho continuato a dire Fine a fine stagione Che la Honda Era molto superiore Alla Yamaha Avevamo due piloti Primo e secondo Fino a poche gare Dalla fine Sembrava che avessimo Un gap tecnologico notevole Noi continuavamo a dire Che in realtà La situazione Non era così A nostro vantaggio La Yamaha In certe piste Va meglio La Honda Va meglio In certe piste Questo è sempre stato così Probabilmente sarà sempre così È difficile che uno Di due costruttori In un campionato Così equilibrato Possa fare un grosso salto La novità di quest'anno Che c'è anche la Ducati Competitiva Perché abbiamo visto Anche oggi Sono andati a podio Però io non penso Che come non si poteva Secondo me Lo scorso anno Dire che dominavamo Da un punto di vista Tecnico Non credo che quest'anno Siamo così Messi male Beh insomma Naturalmente Suppo Se l'è cavata Con la solita Sua diplomatica Furbizia Perché è molto abile Certo Però non è vero Poi Che l'anno scorso La Honda fosse Allo stesso livello Di Yamaha L'abbiamo raccontato Tante volte Yamaha Si ha recuperato Ma ha recuperato Nella seconda parte Della stagione Insomma La tesi di Giovanni Non è così Campatinaria Sentiamo il nostro Tecnico Ma diciamo Che sicuramente Almeno per come L'ho vissuta allora La Ducati Nel 2007 Con Stoner Aveva Era in una situazione Diversa Secondo me Quest'anno Il campionato È molto Molto Equilibrato Su livelli Erevatissimi E questo È l'aspetto Assolutamente Più significativo Poi ricordiamoci Ancora una volta Che manca Pedrosa Si però Dobbiamo capire meglio Qual è il problema Tecnico Della onda Cioè Lui dice I piloti Gli dicono Che il motore Troppo potente Fin dall'inizio Marquez Ha avuto quest'idea Che fosse un motore Ingestibile Addirittura Mette in difficoltà La ciclistica In Aleman Hanno provato A ripescare Un telaio scartato Dalle primi teste Mi pare L'evoluzione Dallo scorso anno A quest'anno È stata In due settori Particolari A livello ciclistico Hanno tentato Di trovare più grip Che era un po' Il limite Dello scorso anno Cioè La guida Di Marquez È molto spettacolare Però non è così Efficace Poi a livello Di tempo sul giro Se Dall'altra parte Hai Una moto Come la Yamaha Che Lotta con te E che invece Può scaricare Molto più grip Quindi sicuramente Loro sono andati A cercare più grip In questo senso Hanno Diciamo Creato Una ciclistica In generale Più rigida E abbiamo visto Durante i test Di KRS Che loro Hanno tentato Di tornare indietro Già Stanno tornando indietro Con il forcellone Che poi Marquez Ha utilizzato Anche qui A Le Mans Che è meno rigido Ecco Quindi diciamo Per dare più Perdere un po' Di grip E avere più Però Possibilità di controllo Per il pilota E poi dall'altra parte A livello motoristico La Honda Sta seguendo La stessa strada Da tantissimi anni Anche negli ultimi anni In cui è stato imposto Sostanzialmente L'alesaggio 81 mm E cioè Quella di spostare La curva di coppia Più in alto Per guadagnare potenza Appunto Lasciando il motore Più libero Di esprimersi A regimi elevati In questo senso C'è un'elettronica Molto evoluta Per la gestione Adesso Questo diciamo È abbastanza limitato Perché Sarebbe molto più facile Poterlo fare Giocando sull'alesaggio Cioè Aumentando l'alesaggio E quindi aumentando Le portate A livello fluido dinamico Non lo si può più fare In questo senso Però la Honda Sta continuando A cercare La messa a punto Del motore Verso regimi elevati In questo senso Probabilmente Sono Già l'anno scorso C'era stato qualche commento Da parte dei piloti Riguardo alla difficoltà Poi di gestire Il motore in gara In accelerazione E probabilmente Anche con freno al motore E quest'anno Probabilmente Sono al limite Ecco In questo senso Ancora una volta Dico Pedrosa Potrebbe essere Molto determinante Da questo punto di vista A livello di capacità Di dare all'indirizzo Ricordiamo Però i motori Sono congelati I motori sono congelati Però in questo senso Diciamo Si gioca molto Con l'elettronica Perché in realtà È un po' La stessa cosa Che ha fatto anche I motori che lo scorso I motori sono congelati I motori sono congelati I motori sono congelati La gestione Del fatto che soffriva Per particolare Le piste con le buche Una notizia Questo me l'ha spiegato anche Bruno Leoni Che conosciamo bene Il nostro ospite Nella puntata su Stoner È detto che lui soffre Particolarmente Quando la pista Presenta delle buche Però qui hanno sofferto Tutti i piloti Honda E devo dire Che questo è un aspetto Che lui ha sottolineato Come se Forse lui avesse sentito Un'accusa Tra virgolette Sul suo stile di guida Perché lui più volte Ha sottolineato Questo aspetto Non ero solo io In difficoltà Ma sono stati tutti I piloti Honda Poi questa cosa Mi ha colpito E Posso finire La mia analisi Su Marquez No Sul fatto che lui Comunque fa una differenza Abissale Lui nel 2012 Vinse il mondiale Moto2 Con la Suter La Suter Vinse 10 gare E lui ne vinse 9 E si diceva Che la Suter Nettamente La moto migliore Degli altri Nel 2013 C'erano Più del 50% Le moto erano Suter E lui non era più lì Lui era andato già In MotoGP E la Suter Vinse 4 gare 3 con un pilota solo E il mondiale Lo vinse la Kalex Adesso la Suter Non c'è più E' sparita Quindi Insomma Io E' un altro elemento Che mi fa pensare Che lui comunque E' uno in grado Di coprire un po' Di magagne Della moto in generale Beh si Io lo penso Certo E' un pilota giovane E' un pilota Che sicuramente Guida sopra i problemi Della moto E' un pilota Anche che secondo me Non ha ancora Questa grande capacità Di sviluppare Di dare l'indirizzo I tecnici Quindi è in un certo senso Costretto a guidare Un po' Quello che trova Ecco Abbiamo visto Assieme a Gerez Nella prova Del forcellone Che è un Un passo Diciamo Di sviluppo Assolutamente Molto molto piccolo E con La facilità Con cui poi E' stato deliberato Ecco Ci hanno fatto Forse un'oretta e mezza Ecco Nel senso Sì Cioè è difficile Per un pilota così giovane Da solo Farsi carico Di tutto E quindi Probabilmente Quest'anno La situazione È molto diversa L'anno scorso Questa gara qui Sembrava un po' Bernò Dello scorso anno Ecco Quando lui Non è Forse la cosa Più strana Secondo me Non è stato Tanto poi La prestazione In gara È stata La prestazione Alla mattina Del warm up Che però Ha fatto Con le gomme Sì Però probabilmente È fatto Con le gomme nuove Lui è riuscito A innellare 7-8 giri Su tempi Assolutamente Sì Infatti Nel warm up Tutti si erano Allarmati Tutti Nel senso In casa Yamaha Siano allarmati Perché sembrava Che lui fosse Imbattibile Nel warm up Nel warm up Era stato Imbattibile Però appunto Ho usato Le gomme nuove Invece Gli altri L'hanno usato Ancora Le gomme Delle prove Insomma Il tema È affascinante Si potrebbe parlare Mezz'ora Anche perché Come dici Giustamente tu Ci fa pensare A Stoner Lo abbiamo già detto Tante volte Ma quello che poi Abbiamo imparato Di Stoner Io In grave ritardo Era che è stato Il suo enorme Talento Che faceva funzionare La Ducati Si diceva Che facesse Una differenza Abissale Però alla fine Ha vinto solo lui Con la Ducati Chiaramente Ripeto È una provocazione Si si Vediamo Vediamo Dai c'è il Mugello Alle porte Intanto Guardiamoci Come ultimo tema Del GP Parliamo un attimo Della Moto3 Perché finalmente Abbiamo occupato Il podio per il Tero Con la vittoria Di Fenati Ecco Intanto raccontami Come è arrivata Questa Dunque Fenati Lo vedete Al centro Piccolino Ma tosto Veramente Il cinghialetto Come lo chiamava Meda Carica a testa bassa Bastianini in secondo Bagnaia a terzo Bellissima gara Bellissima gara Una bella soddisfazione Era dal 2004 Che non monopolizzavamo Il podio 2004 Della cinghialetto Minore Il gran premio del Giappone 2004 Allora furono Dovizioso Lai e Corsi Se non mi sbaglio Dovizioso Poi vinse il mondiale Quell'anno Della 125 E comunque Una gara Molto bella E bello Comunque Questo spirito Tra i tre italiani Romano Raccontato Come adesso Si è trasferito A Tavullio A Tavullio A Pesano Non so esattamente Dove sei andato Abitare Comunque E anche lo stesso Ha fatto Bagnaia Bagnaia Ha raccontato questa cosa Che è molto carina Io sono di Torino A Torino Nessuno sa Cosa è una moto Nessuno parla di moto I miei amici Ovviamente lo sanno Però Non vivi l'ambiente Della moto Mi sono trasferito All'Academy Perché anche lui È un pilota Della VR46 Academy Lì si parla di moto Dalla mattina Alla sera Andiamo ad allenarci Assieme Abbiamo il preparatore Di Valentino Rossi E però Respiriamo L'atmosfera Delle moto 24 ore su 24 E lui ha detto Questo è il cambiamento Più grande Che ho Dall'anno scorso Al di là della moto Ed il team Perché lui è passato Dal team KTM Alla Maindra Di Martinez Quindi è significativo E lo stesso è successo Per Fenati Fenati Finerano L'anno scorso Sembrava un po' isolato Da questo ambiente E invece adesso Lo vedo Più Più motociclista Non so Come Più Lo spirito Quello vicino A Dei campioni E la scuola La scuola giusta Dai Speriamo che Fin dal Mugello Ci dia una conferma Di una ritrovata Competitività Stabile E io Passo al Il tempo stringe Al commenti Dei lettori Perché se n'è di carini Trascuro tutti quelli I commenti più belli C'è chi ironizza Sui giochi A favore di Valentino Noccio 36.02 Dice E' stato Carmelo Probabilmente Carmelo Speletta Probabilmente ha montato L'80 Della Polini Sotto al motore Dell'M1 Di Valentino Così poteva andare più forte Poi ha dato una cassa Di gutta All'Axa Marquez E ha regalato Una canna da pesca Nuova Stoner Così non torna E su Iannone Jumbo 36.86 Buffo questo Il tasto arancione Per la mappa Anti Marquez Lo trova subito Ironizzando Sulla difficoltà Di Cherez E infine Più serio Pacco 999 Dice Ciò che spaventa Il Valentiniano Che c'è in me Ma che affascina Il motociclista È la capacità Di Corco E Lorenzo Di raggiungere Col lavoro E la professionalità I livelli Cui vale E marca Arrivano più istintivi E naturali Nel duello Tra le due Yamaha Anche se è Valentiniano Non avrebbe saputo Chi scegliere Beh bella mi sembra Lo sport che vince La prossima gara La prossima gara Mugello 31 maggio Non abbiamo parlato 5 km e 2 Un bel dritto 1 km e 140 metri Marquez Ha vinto l'anno scorso Battendo Lorenzo in volante Terzo Valentino Secondo e 7 Sette vittorie Per Valentino Cinque pole Lorenzo 3 vittorie Marquez 1 Allora Saremo tutti lì Gio cosa ti aspetti? Beh mi aspetto Una gara molto intensa Perché Quella è la pista preferita Di Lorenzo Dove Valentino Va sempre forte Addirittura lui parla Di questioni d'onore Mugello Marquez Che avrà sicuramente Voglia di rifarsi La Ducati Avranno uno stimolo speciale Insomma Le premesse Per un gran premio Spettacolare ci sono Combattuto E tu? Ma diciamo È una pista Assolutamente Penso sia Ormai Tra le piste rimaste Storiche Quella che È l'università reale Del motociclismo In questo momento qui E racchiude in scena Una serie di caratteristiche Talmente varie Che è difficile dire Se è favorito uno O l'altro Diciamo E partono tutti Alla pari E chiunque potrebbe Sfruttare le caratteristiche Proprio dello studio Di guida O le caratteristiche Del mezzo Per vincere Rispetto agli altri Vedremo Sicuramente L'unico punto tecnico Appunto È il fatto Del clima Mediamente Si corre con la pista Molto molto calda La domenica E quindi probabilmente Le factory Quindi Honda e Yamaha Saranno favorite Dalla scelta Della gomma più dura L'ideale sarebbe Invece un clima Eccezionalmente fresco Esatto Per rivederli Alla pari Come erano le mani Pista in mutata Dal 75 Dunque Una cosa grossa 40 anni È cambiato tutto intorno Naturalmente È diventata una pista sicura Una pista non soltanto Bella da girarci Ma anche Splendida da guardare Ma anche sicura Questo è importantissimo Bene L'appuntamento con voi E quindi Dopo il Mugello Ci fermeremo anche Per i test Il lunedì I piloti ufficiali Proveranno le mission Ecco Sono molto felice Di questo Cosa che ti smercava È giulio Quindi ci fermeremo Lì anche lunedì Esatto L'appuntamento con voi Dovrebbe essere mercoledì Ma sul sito Saremo più precisi Dunque Arrivederci Al Mugello Una gara straordinaria Uno spettacolo Come Ci sognavamo Se si parte così Chissà dove possiamo arrivare L'entusiasmo alle stelle Tre italiani sul podio Come non capitava Dal Giappone 2006 Dunque Grandissima impresa Nessuno spagnolo vincente Spiaciuto molto a Zamani È vero? Ho lottato molto Con i miei amici spagnoli In tutti questi anni E finalmente Mi sono preso Una bella di vincito In Catale E Valentino E le Ducati Già